ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ciao buonasera ciao benvenuti in questa vuota spesa euro spin a giusti capelli mamma per vi saluta e soprattutto iscrivetevi al canale certo perché qua dobbiamo essere tanti vero dobbiamo raggiungere mille iscritti è vero a potopoli dobbiamo fare mille iscritti dimmi che c'è per cena non lo so mamma che cosa vuoi tu per cena e me dopo poi ci pensiamo tanto dobbiamo iniziare abbiamo siamo andati prima euro spin però adesso dobbiamo andare a fare altri servizi dove andare a veterinario dobbiamo andare a ritirare il telefono di papà che l'ha portato ad aggiustare e poi pensiamo alla cena hai messo le ciabatte ma se noi dobbiamo andare a fare questi servizi ti devi rimettere le scarpe dopo va bene dai cominciamo facciamolo svuota la spesa facci vedere mamma io li ho quando è stato due giorni fa abbiamo fatto la spesa ai loro spin come mamma dal telefono abbiamo fatto la spesa e quindi è una spesa online questa è va bene ma dobbiamo abbiamo che cosa abbiamo comprato fai vedere amore questi erano in offerta e lo scontrino mamma prendi lo scontrino i gelati bigus tre gusto no b biscotti trigusto 6 questi sono i più buoni in assoluto perché sono proprio quelli identici biscotto identico al cucciolone dell'algida 2 euro e 29 2 euro e 29 costavano 6 biscotti da lo dice quel prezzo intero no vero va bene ok quindi non lo dice quanti vabbè c'era un 10 per cento di sconto praticamente poi il tappeto che i cani puntualmente ce lo fanno fuori è di fuori però ce lo fanno fuori il tappeto cioè tirano tutti i figli tirano proprio quindi diventa uno schifo e li buttiamo puntualmente e quindi ha ripreso il tappeto che stava di nuovo in offerta papi questo credo vuoi fare sì però se no non lo compro se non sta in offerta 2 euro e 49 quindi questi che sono piselli che ma si devono scongelare piselli fini quanti è di quanto un chilo sono un chilo di piselli fini che abbiamo pagato un euro e 49 è vero ma buonissimo due confezioni di latte sono freddi freddi ma questi sono quelli freschi da frigo però questi abbiamo trovato nella spesa online questi abbiamo preso quando non non ci faceva cliccare quello con il quello di cartone sempre senza lattosio stai fermo un congelato avocado si vede che poi è tutto verde questo deve stare abbondantemente ma c'è ancora l'altro da fare che già pronto per fare la maionese e quindi questo poi lo faccio maturare con calma sicuramente era congelato è freddissimo attento attento che si rompono questi erano in offerta li ho presi anche l'altra volta ho preso lo chardonnay che questo qui è il vermentino mi sa ho ricomprato due chardonnay perché l'ho bevuto ed era proprio buono era proprio buono freddo ovviamente molto frizzantino molto simile al prosecco sicuramente di chardonnay non hanno proprio nulla però è stato buono quindi ne ho presi due papi ieri è andato alle rospini a prendere con i panini ne ha preso un altro quindi abbiamo 3 chardonnay papi e papi guarda che ti ho preso questi sono le red bull dei poveri ok energy drink quindi con taurina taurine sta scritto e quindi te li porti a lavorare questi papi che fa caldo va bene chiore di magnolia mamma così sono i proteggi slip che usa mamma in realtà non uso questi io uso quelli dell'anilamo essere di cotone però questa è un'offerta e questi abbiamo comprato allora perché praticamente questi sono 40 proteggi slip e che ho pagato un euro e zero nove cioè prendo l'altro no prendo questo perché sta in offerta mentre gli energy drink mammina quelli costavano 98 centesimi fai vedere questo che cos'è per la pasta mamma papi abbiamo preso pomodori secchi e pistacchi pesto di pomodoro secchi e pistacchi abbiamo preso questo facciamo questo domani con la pasta ok proviamo sperando che non sia piccante amore sono i pomodori distacchi come ti piacciono se lo vuoi questo questo era in offerta credo perché perché ho aperto solo il volantino il testo un euro e 19 ma non lo so stavano però sì stavano il volantino come questo della linea le nostre stelle patè di olive taggiasche da tanto tempo che non lo mangiamo ho detto me l'altro giorno l'ho buttato quello che ci avevo che ho detto fai buttare un po di cose aperte che stanno in frigo e ne ho comprato un altro allora la pasta mamma questo è da parecchio che non la prendiamo le penne normali di solito prendiamo le mezze penne ho preso le penne perché questa linea qua era anche in offerta poi queste che sono le carote tagliate alla julienne che si dice che possiamo mangiare a mo di patatine magari a piccola maionese però non sono le patatine fritte questo era in offerta filetti di salmone e ondina sì della ondina i filetti di salmone questo all'olio d'oliva era in offerta l'altra volta vedi quello naturale che presi che stava in offerta questa volta stava quasi in offerta e ho preso questo all'olio d'oliva pazienza però almeno lo prendo in offerta perché 3 euro e 09 a fronte di invece dove sta dove dove salmone o e non ci sta scritto salmone raga non lo vedo ah ecco filetto di salmone 2 euro e 49 quindi si può fare è talmente molto buono lo faccio sulla padella poi lo sbolletto un po così lo spadello buonissimo vai amore questo liana ha voluto questi questa volta ha cambiato anziché gli abbracci dei poveri i panistelle dei poveri va bene saluti amore che cos'altro è vuota hai finito il cartone dell'euro spin abbiamo preso anche una confezione di acqua quella da mezzo litro della blues la piccolina sarebbe questa qua che di oggi si porta a scuola per un'altra settimana di scuola che poi fra una settimana finisce e quindi niente è tutto qua questa è la spesa abbiamo speso il totale 26 euro e 88 centesimi però papi abbiamo comprato delle cose insomma che ci stavano dai prendiamo veramente tante cose spendiamo tanti soldi come la settimana ah eccola la balla dell'acqua la confezione dell'acqua l'aveva pure entrata papi vabbè ma gli ho detto che abbiamo preso questa quindi quella è da 12 da 12 vero papi e quanto costa aspetta topolino fammi vedere l'acqua quanto costa questa così costicchia però è comoda raga me li porto in borsa oh che c'è amore guarda stai cadendo mettiti bene l'acqua 2 euro e 15 però ci sono 12 bottigliette va bene va bene quindi che cosa dobbiamo dire amore niente domani è festa però si domani è festa e noi stiamo qua a casa perché ci abbiamo tante cose da fare non si va a scuola però papà domani sera va a lavorare in pizzeria e noi stiamo qui a casa domani domani andiamo a consegnare domani andiamo a consegnare Sofì amore alla sua nuova padrona sperando che questa padrona se la tiene bravo amore speriamo perché andiamo un'altra volta speriamo che se la tiene perché qualche se la abbiamo provato a dare un'altra volta dopo un po' si è è uscita malta come la gente a volte fa tutti quanti possiamo fare andiamo un'altra volta e poi andiamo un'altra volta e quindi domani faremo solo sta cosa questa uscita e ora va fuori a portare Sofì fuori e poi a portarla diciamo dalla padrona nuova e del resto siamo qui a casa perché dobbiamo cucinare fare i servizi vedere di sistemare un altro po' il giardino perché c'è sempre tantissimo da fare in questo giardino chi ci sta chiamando qualcuno vabbè poi vediamo e quindi noi vi salutiamo oggi e vi e ci vediamo al prossimo video stiamo aspettando una The Gustabox speriamo che arriva subito e facciamo il video di The Gustabox così ci vediamo anche più a breve possibile è vero amore? si è cantato Topolino si è cantato Topolino ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao